Allora ragazzi stiamo un po' cazzeggiando qua tutti quanti insieme Oggi per la prima volta in un video siamo al completo Quindi siamo con tutti E praticamente stiamo costruendo questa gara Su ghiaccio con le barche Aspetta! Che epico! Aspetta! No, se non è finissimo Non picchiare Era la benedizione Ah, fantastico Allora, abbiamo fatto veramente pochissimo Ma abbiamo già idea su come sviluppare la nostra appunto idea Qui c'è la partenza Abbiamo la prima discesa E poi finisce qua Cioè per adesso finisce qua La faremo noi Appunto, sì, dobbiamo farla nel video Qui ci sarà una bella cascata Andre si è ingegnato stranamente E ha fatto già l'inizio Ovvero ha fatto la partenza Infatti tramite questa leva possiamo aprire o chiudere i cancelletti Che saranno Guarda che figo Ma posso premere? No, io, io, io Perché sei guida dentro? Aspetta Aiuto Basta, se ferma qui dentro Aiuto Ciao Basta Che casino Ma andiamo in crash il server Questo Fermo un secondo Questo percorso Sarà fatto Tramite le barche Abbiamo farmato Un botto Di Ghiaccio Sia normale Che compatto Che abbiamo trovato Regà Dai, regà Ma se io Metto le robe qua Di 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 pietra Di stone Come cavolo si chiama Per non fare ghiaccio Le robe Ah, pensavo che fosse brutto Io non l'idea Ma no, è per non fare ghiaccio Ma no, è per non fare ghiaccio No, non posso saprire il problema Ma io ne sapevo A me non piacevano esteticamente Siamo andati a Come si chiamano quelle robe lì? Giulio? Oh, le icepikes Pensavo di aver fatto una cosa utile Pesita Nelle icepike A farmare il ghiaccio Quello super compatto Che abbiamo trovato nel video di Giulio Tantissimo tempo fa Ci siamo riendati Abbiamo trovato sia il ghiaccio normale Che il super compatto E oggi Facciamo questa Super compatto Questa sfida Allora, innanzitutto dobbiamo costruire Dobbiamo continuare con la discesa Quindi Andre si è rotto No, dai Dai Che che hai rotto? What? Si è aperto Regà? È magia? What? Ma che? Ma uno era chiuso prima Vabbè, fa niente Non paghiamo sempre Basta Prendete un po' di acqua Prendete Io ho i ghiacci No, l'acqua L'acqua Eh, io ho preso il ghiaccio Ma l'acqua Ci serve l'acqua Non il ghiaccio Aspetta Pietro Una cosa importantissima Non me l'hai detto Rotto? No, 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 no Ti prego No, non rompere Dai, per favore Vai Così sappiamo dov'è il portale Perfetto Fate qualcosa Ballate Cantate Fate qualcosa Per favore Ah, non ci Stiamo facendo qualcosa Non che non fanno niente Io stavo per cadere Allora Pensavo Io sono Stavo per cadere Da te che è precipitato Ma dai Pietro, ma sei morto? Cioè, non è morta Sabrina Sei morto tu? Allora Riprendiamo le nostre cose Già parte male sto video Ponto male Ma oh, ma stica Masticato Guardate, scusate, facetemi un attimo Gli suggeriamo qua Fatemi distruggere Allora All'arrivato Ci vediamo Un'acqua qui Un'acqua qui Ok Che schifo Aspettate che il cane ha vomitato Ma no Ma avete fatto tre vomiti In tutta la stanza Zank Cosa hai fatto? Zank Hai vomitato Blavo Guarda, perché io gli ho dato la costina Io so che non gliela devo dare Ma a lui piace un sacco la costina Si vede Ok Allora Si, siamo da qua Noi arriveremo qua Arriveremo E scenderemo Con le nostre barche Fino a Qui Allora A questo punto Dobbiamo arrivare Aspetta che sto guardando Cosa sta guardando Cioè 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 Sto abrifermo qui Che sta fissendo qualcosa Ma non capisco cosa Sta fissando il vuoto Io sto aspettando che mi dite di fare qualcosa Visto che non posso far niente Che non posso salire Adesso ti dico Di cosa far Ti dico tranquilla Vieni qua Devi scavare circa Da Anzi da qui Che Anche in piccone 5 5 Devi scavare in questa direzione Fino là Ok Vai livella Faccio i bordi Dammi una mano Giulio Aspetta un settembre Io faccio i bordi Ok Io faccio i bordi No Giulio Aspetta un secondo Cioè ma a livello A che livello? A 77? 77 sì Eh no Lì ci va il ghiaccio Non è il rettilineo con il ghiaccio Ragazzi Vi ho fatto Ma io ho detto queste Pietro ma Hai fatto i calcoli sbagliati Oh canna di cazzo No Ragazzi Stortissimo Già l'ha fatto fare Allora tipo È vero carino che sia storto Perché almeno abbiamo delle difficoltà Ah ok No Perché serviva la curva In questo rettilineo Carinissimo Petto 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 All'arco L'arco Grazie Che mi avete fatto sentare nell'acqua Ok perfetto Quindi io continuo di qua Ma è stortissimo Ma è fatto apposta Perché ci serve una curva Capito In mezzo Cambio di programma Regà Fermo in secondo Partiamo dalla parte opposta Partiamo dalla cascata Ok Per forza Non sa fare uno più uno Pietro Perché per forza Sei giusto da questa parte Guarda che bella La cascata così Regà Guarda che bella L'hai chiesto Raga il mio ghiaccio è diverso Stavo facendo una ghiaccia Sapri Non cosa Cosa stai facendo Allora Mamma mia Ma lei è un ghiaccio Io ho preso quello Dalla cassa che c'era Ma ci sono due tipi di ghiaccio Quello compatto Ne facciamo un passo avanti Lei ne fa cinque indietro Che va ai bordi Ok E quello normale Quello azzurro scuro Esatto Quello azzurro scuro Va messo ai bordi Allora Servono staccionate Adesso non ci serve Staccionate Che prendo un bel po' Torce E diorite E vetro Ok Io avrei una domanda Mi dica Qual è l'utilità di Sabrina In questo video Dai non è vero Guarda quando C'è sempre una persona inutile In questi video Pietro guarda che ho già fatto No regà Cos'è scoppiato Un creeper Io ho visto da lontano No dai Da lontan Arrivano tre re A render danno maggior re dei re Andre era giusto Era giusto Che cosa hai fatto Andre qua Stavo migliorando Non è vero Non hai migliorato Hai fatto solo casino Hai fatto Cosa hai fatto Blank Dai Andre Tu fai il tuo Che io faccio il mio Ma ci ho messo vent'anni A mettere a posto una cascata Hai messo terra Fa schifo Io voglio le cose belle Nel Minecraft Non la merda in terra Nel Minecraft Nel Minecraft Nel Minecraft Nel Minecraft Scusi Mr. Pietro Avrai una domanda Qual è l'utilità di Andre In questo video Sto mettendo a posto La colonna Ma guarda Per adesso Non mi sembra molto a posto Sabri Ho un compito per te Vai Sei sicuro Devi solo scavare Scava da qua Guarda bene Qua Sabri Qui Da qui In questa direzione Con questa grandezza Ok Per quanto? Fino al fiume Non ha capito niente Pietro Ok Dico io Il silenzio Dovevi farti capire qualcosa No Sabri No Sabri Te l'avevo detto Che non ha capito un ciondo Tu me l'hai da Pie Tu mi hai fatto così Sabri Tu l'hai da Da questa parte Sabri Io ho paura Ad avvicinarmi Per vedere Quello che sta facendo Andre Ve lo giuro Io ho paura Io ci ho messo 20 minuti E' sempre più Inguagliato in quel lavoro Andre Te fai benissimo Dove il paura Avevo un solo compito Non fare nulla L'ha sbagliato Ciao Sabri Ma perché Abbiamo ridotto un po' La grandezza di tutto Ma porca cacchia Eh tu hai detto 7 Ma hai idea Di quanto è che scaviamo Eh io ho fatto altro Nel mentre E la via è sgombera Manca sopra Giulio La via è sgombera Ma cioè Non è che Lo lasciamo tutto Ma no ma Sopra è voluto Perché è una specie di ponte Venga ma fa schifo E' una specie di ponte E' veramente bruttissimo E' una specie di ponte Allora No 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 Fermo Andre No l'acqua no Ok no dai Andre Allora Fino a un secondo fa Avemmo fatto Ora con Andre Abbiamo ancora a finire Teoricamente Dovremmo esserci Ok Abbiamo fatto varie prove E dovremmo essere arrivati Praticamente Alla fine Del momento Ghiaccio Vabbè puoi dire Perché sono stata bravissima Per la prima volta No Praticamente Ora passiamo Ora passiamo Sei stata bravissima Grazie In tutto questo Mi stavo tagliando le unghie Immagino Ora passiamo Alla parte Acqua Ovvero Dobbiamo fare Il percorso appunto Sull'acqua Quindi dobbiamo fare Una strada Che ci conduca A destra Quindi da qua Facciamo una roba Di questo tipo Quindi così Metto una mano Per una riga Come si chiama Il dito ultimo L'alluce Mignolino No si chiama Pollicione Alluce Pollicione Pollicione Sembra il nome di un gigante Ritardato Pollicione Calluce Dove la raccontava La vostra nonna La favola di Pollicione No Pollicino Era Pollicino La mia nonna Mi raccontava Pollicione Che cosa volete Bambini speciali Pollicione Ecco perché Sei cresciuta Con tutti questi ritardi Con i gattoni Con i gattoni A questo punto Saremo obbligati Ad andare da questa parte Noi continuiamo qui Sì Qui va chiuso però Ancora rega Fermo un secondo Pezzo di quella roba Oh Voi due Aia Quello c'entro io Dai andiamo a piccare La Sabri Gamer Ha rotto No dai Scusate Fermi Rega manca l'ultima parte E l'arrivo Per favore Manca pochissimo Non distrighiamoci Manca poco Ma poi facciamo la pista Nello stesso video O un altro video Sì No facciamo Tanto la gara è veloce Ah ok Perché ti odiavo Se non la facevi fare Poi continuiamo Con l'arrivo Nel villaggio Quindi sarà anche Una parte urbana Bella Ehi Raga qualcuno ha dello zucchero Stai zitta Dello zucchero In cucina Io Nel sangue Vai in cucina Vai Aspetta Aspetta Giulio Grazie Io spacco il ponte Poi qui Dobbiamo rompere il ponte Non troppo Farò tipo largo È esatto così Basta 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 Largo 3 Dp Verai a controllare Che i ponte stanno spaccando Che io non mi credo Sì Fatti No tranquillo Armato di arco Ma serviva il tuo ponte Andre Oh ok Io prendo già l'arco Ho già capito Ti serviva il ponte Andre Poi P E qui facciamo una biforcazione Eh appunto Sì La chicane Qui diventa tipo strettissima Qui si allarga Qui ripassano La chicane Carino E qui invece abbiamo La fine Con una bellissima sorpresa Che abbiamo appena fatto ragazzi Quindi Andiamo subito Ti specifica che sono 6 ore e mezza Di video Pietro Questo è un altro discorso Ci stiamo mettendo ovviamente In eternità Per fare questa Questa gara Però secondo me Sarà una roba fighissima Quindi Andiamo subito A vincere questa gara Tdp Sarà il nostro giudice Ma giochiamo in F5? Giusto giusto F5 F5 Tutti in F5 Oh Permesso Non c'è spazio per te Non c'è spazio per te Non c'è spazio per te Andri Parte in seconda fila 3 2 Aspetta 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 Presentazione Vai Tdp Presente concorrenti In prima fila Dal profondo Forli Posto dimenticato D'addio Solvi Da ragazzi Oggi spacco il culo a tutti In seconda fila Da quel di Milano Non è seconda fila di fianco Vabbè Il bianco Fa niente Fa niente Dietro A Andri Non lo schiaffi Dei bambini Grandi e piccini Sarà Sono io Sono io La scala Dei primi Ma perché uno vola Andri Vai 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 No 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 Giulio no No dai Sono già ultima Non so bene No Giulio ha fatto drift Lucinato Ah si si schianta No Andri Non fai Vai come c'è uno Che è un boschel Andri Ma si vola Si vola Vai 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 In testa Così Vorrei vedere Che sta facendo sabre In questo momento Vai 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 Dov'è Giulio Giulio Arriva Arriva Fermi Sono dietro di te Aia Il mio 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 Aspetta Ci sono pure là Gli schianti Mi confisco nella barca Aia Se sei mio amico Tu lo sai Ma io sono partito ultimo Ma dov'è Giulio Sono dietro di te No aspetta No No Dove sono Dove sono No 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 Giulio Ah No 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 L'ultimo Per ricordare dove cavolo eri No dai Non è partito niente Andri Posso fare così No Non è partito niente Ma come non è partito niente Andri Cosa diamo Una E' Bail Giulio Sai cosa fare in questi casi Fai i suoni Arrivata Prendete tutti dei fuochi D'artificio Lanciateli Ma aspetta Cosa hai fatto Andri Aspetta No io perché Wow Che bello Vai E' Ho vinto Sì balando Solo perché mi sono girato a guardar doveri Non è giusto E' arrivato lui Ma è salito sulla barca E' salito con Sabrina No fermi Aspetta Aspetta Guarda che sta picchiando Sabri Va bene Perché sto cosa mi piccchia? Io direi che il video di oggi può anche concludersi qui Io ringrazio tutti quanti delle ore spese per fare questo bellissimo percorso E noi ci vediamo domani con un nuovo video Ciao Ciao